ciao fragoline nuovo video allora dato che me l'hanno richiesto in tantissime e io lo sto facendo adesso per cui scusate perché ho avuto altri video da fare e allora alla fine questo l'ho lasciato un po indietro però vabbè allora come leggete dal titolo questo video vi fa in questo video vi faccio vedere praticamente come curo i miei capelli dato che molte persone me l'hanno richiesto e volevano sapere come mi prendo cura dei miei capelli ovviamente sono tutti i miei capelli non sono extension per farvi vedere ma credo che si capisce dato che mai mi piacciono i capelli lunghi voglio farli crescere li sto facendo ancora crescere di più l'ho tagliati due mesi fa e questo è il risultato che sono diventati lunghi detto questo vi mostro i prodotti che uso però prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video se volete lasciatemi un like e un commentino qua sotto in più se volete anche seguirmi su instagram scusate ma ok che si sposta vabbè vi lascio il mio instagram sia qui che sotto in tutti i video per cui seguitemi che li vi mostro praticamente quasi tutto invece qua su youtube poco diciamo iniziamo allora vi parlo di questi prodotti qua e vi faccio vedere come si usano perché ho fatto anche le clip allora questi prodotti qua questo prodotto qua è della giurveda spero che ho pronunciato bene l'ho preso dalla mia parrucchiera perché ovviamente li potete solo acquistare dove ci sono le parrucchiere che vendono questo questo marchio allora prima di tutto questo è di cinque elementi trattamento condizionante praticamente al 100 per cento naturale che tanto ve lo ve lo ve lo mostro questo allora gli ingredienti non so se vi interessano ma io ve lo dico gli ingredienti sono la menta il timo la canfora poi c'è glang glang non so con cos'è arancio dolce olio di jojoba teatri proteine del grano in pratica ci sono questi ingredienti è naturale questo qua è 250 ma c'è anche quello da se non sbaglio un chilo se non sbaglio da un chilo non so perché si sposta il cavalletto e comunque è praticamente così questo è una maschera per capelli un odore spettacolare come vedete io lo sto praticamente quasi finendo e sono in panico perché io lo devo comprare e dato che con questo coronavirus è un po difficile andare dalla parrucchiera e allora alla fine spero di riuscire a ricomprarlo di nuovo perché ce l'ha solo la mia parrucchiera comunque l'odore è buonissimo vi resta anche sui capelli questo prodotto ve li lascia belli morbidi lisci e non e non sono pesanti adesso vi metto praticamente le clip dove ho usato questo prodotto che sono uscita dalla doccia e ovviamente vi faccio vedere come funziona c'è come funziona e è un normale prodotto come tutti gli altri però la differenza la differenza è che questo è un prodotto ottimo naturale che non fa male i capelli e ovviamente voi cosa deve fare fate la doccia applicate questo poco perché ce ne vuole poco sui capelli sul diciamo sui capelli lo lasciate in posa io lo lascio in posa per due minuti ma qua se non mi sbaglio ci dovrebbe essere scritto anche cinque si tra i due e cinque minuti che dovrebbe agire per cui i capelli devono essere umidi comunque è ottimo perché i capelli li lascia veramente anche diciamo come vedete belli lucidi e niente praticamente uso questo e ovviamente anche vi do un consiglio che quando uscite dalla doccia o quando vi lavate i capelli io vi consiglio di non pettinarli i capelli perché io all'inizio pettinavo i capelli quando finivo dalla doccia invece no dovete fare l'incontrario io ho notato che poi i miei capelli si sono ho notato i miei capelli che si sono praticamente rovinati poi quando sono andata dalla mia parrucchiera lei mi fa no no non non pettinare mai i capelli quando esci dalla doccia io ovviamente non lo sapevo e adesso che lo so io vi ricordo di non pettinare i capelli quando sono bagnati ma pettinateli quando sono asciutti io infatti ho fatto così come state vedendo nella clip praticamente allora a prescindere prima di asciugare i capelli ho usato questo prodotto qua praticamente questo di 150 ml e allora vediamo allora si chiama olio io adesso cliente ricostruttiva questo qua quest'altro prodotto che mi sto trovando veramente bene questo prodotto qua praticamente non vi danneggia i capelli è ideale per costruzione della struttura interna ed esterna del capello idrata le lunghezze lasciando capelli lucidi e setosi praticamente adesso vi faccio vedere anche con questo applicazione questo qua dovete metterlo praticamente sui capelli umidi bagnati lo spruzzate in ovviamente in tutti i capelli ci vuole 2 barra 5 minuti perché deve agire il prodotto io l'ho ottenuto praticamente cinque minuti e dopo cinque minuti ovviamente ho asciugato i capelli questo è veramente ottimo perché poi anche questo ha un buon odore quando voi lo mettete su in poche parole comunque come come state vedendo nelle clip vaporizza il capello in poche parole allora non va risciacquato questo non va risciacquato ma va subito praticamente dopo che avete messo questo prodotto dovete asciugarvi i capelli io ho usato questa spazzola praticamente fono dove asciuga i capelli che in cinque minuti me le asciugati come c'è una bomba in poche parole questo è il risultato praticamente di quello che state vedendo dei capelli finiti asciutti morbidi setosi e anche luminosi perché se vedete sono anche belli luminosi calcolate che a me durano più o meno dai tre quattro giorni questo chiamiamolo trattamento perché è praticamente un trattamento che faccio di solito allora questo che ho mostrato è quello nuovo che sto provando da poco da pochi mesi però mi sto trovando bene per cui anche questo non posso farne a meno io ve li straconsiglio questi due infatti quando mi finiscono questo ancora non è finito e dura tantissimo questo anche se c'è anche se ha di 150 ml però ce n'è tanto dentro e dura tanto comunque ve li consiglio perché sono ottimi in più uso anche questo prodotto che lo sto testando lo sto provando l'unica cosa che questo qui secondo me è buono ma non lo so questo me l'hanno me l'ha regalato la mia parrucchiera in omaggio e sinceramente non so quanto costa è una boccettina piccolina che non so adesso di quanto è però è piccolina e dura pochissimo per cui non lo so io so solo che questi prodotti costano anche perché sono naturali e giustamente non so se dipende dal costo perché se io devo spendere un tot per un prodotto piccolino così secondo me non ne vale la pena poi vabbè ovviamente dipende anche come lo usi dipende se ottimo eccetera non è male è buono perché mi trovo bene anche con questo questo praticamente ha questi ingredienti che sono l'olio di argan olio di mar mais estratto di carota succo di olio aloe poi pantenolo estratto di perla estratto di edera praticamente questi sono gli ingredienti scusate se sentite il rumore ma il mio cane che rompe quando dorme comunque è buono questo vaporizza i capelli praticamente dovete metterli sui capelli asciutti come ovviamente vi faccio vedere la clip e mettete sui capelli asciutti e poi dopo le pettinate questo non dovete neanche aspettare cinque minuti un minuto perché il tempo che lo mettete su praticamente potete benissimo niente non è male ed è buono anche questo secondo me vi consiglio di più questi due prodotti perché insieme sono ottimi dipende dal vostro capello ovviamente per cui io vi consiglio prima di prendere questi prodotti di andare dalla vostra parrucchiera e sinceramente dire alla vostra parrucchiera quale di questo di questi prodotti vi consiglia perché ovviamente ce ne sono tanti e dipende da in poche parole dai vostri capelli la mia parrucchiera mi ha consigliato questi due per i miei capelli e infatti è una bomba ve le straconsiglio non so quante volte lo devo ripetere io mi sto trovando bene per cui quando vedete i miei capelli che sono diciamo così e perché uso questi prodotti qua come vedete non sono pesanti perché come se non li sentite i capelli cioè giuro non sentite proprio non pesantisce il capello li lascia belli morbidi e tantomeno sono anche cioè è una bomba belli luminosi una solo passata come avete visto nelle clip è spettacolare non so più cosa dirvi perché mi trovo bene da ormai più di un anno e niente quando prenderò quello più grande ve lo farò vedere ma tanto lo sapete già o tra instagram o su youtube li vedete questi prodotti niente ho parlato fin troppo il video durato fin troppo non so perché sto cavalletto si sposta di qua di là su e giù boh vabbè e fatemi sapere che prodotto usate voi per i vostri capelli se volete acquistarlo fatemi sapere se avete già provato questi prodotti della giurveda se non sbaglio si dice così niente io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video spero che questo video vi è stato utile se volete non so che io provo altri prodotti e faccio la mia recensione scrivetelo qua sotto nei commenti che proverò i prodotti che voi mi scrivete e vi farò sapere come ovviamente vi ho fatto sapere su questo prodotto qua allora i prezzi sono un po esagerati però sinceramente c'è ne vale la pena spendere un tot di soldi allora adesso non so se i prezzi posso dirlo perché dato che questi prodotti si prendono dalla dalla porcchiera non so se questi prodotti se il prezzo ve lo posso dire io provo a dirvelo poi vediamo sperando di non bloccarmi o segnarlo per copyright comunque questo di 250 l'ho pagata a 20 non mi ricordo bene iniziamo bene no sto scherzando allora questa l'ho pagata dai 15 euro 15 invece questo dai 20 20 euro 20 e 15 euro più o meno però anche se i prezzi sono alti vi assicuro che è un ottimo prodotto e non dovete farlo scappare perché è ottimo non è una sponsorizzazione perché li sto provando io li sto comprando io per cui non è una sponsorizzazione già dico questa cosa qua niente ovviamente se volete sapere i prezzi robe varie dovete andare dalle vostre parrucchiere che vendono questo se no andate sul sito e chiedete responsabili che vendono questi sul sito c'è le mail che potete contattare e loro vi spiegheranno sia i prezzi che tutto il resto detto questo ci vediamo al prossimo video perché è durato anche fin troppo e niente iscrivetevi al canale e lasciatemi un like e se volete il mio instagram ciao e al prossimo video